Luca Di Procolo, segretario dei giovani democratici, vuole dire la sua su quello che sta succedendo al forum, fra dimissioni, surrogue e quant'altro in questo periodo? Sì, in sostanza io ho espresso un mio personale parere su quella che è stata la polemica nata intorno al forum dei giovani e in questa mia lettera esprimevo un po' il mio punto di vista, toccando i punti salenti della polemica, ovvero le dimissioni del forum di alcuni consiglieri, l'utilizzo della sede del forum e poi sul come portare avanti la gestione del forum stesso. Non sei d'accordo su quei ragazzi che si sono dimessi diversamente giovani? Ma diciamo che l'atto di per sé, che è un atto ovviamente licito, non ero convinto sulla modalità delle dimissioni perché arrivare a dimettersi a otto mesi dalla conclusione lo vedevo più come un gesto strumentale e soprattutto come voler scaricare la responsabilità verso altri di un fallimento o un fallimento palese perché ad oggi purtroppo il forum ha prodotto ben poco. Perché dice un fallimento palese? Perché come dicevo prima, siccome il forum è nato per garantire la partecipazione, per far aumentare la partecipazione giovanile all'interno di un'istituzione, dell'istituzione comunale, ricordiamo che il forum stesso è un'istituzione non avendo prodotto grandi risultati, per questo dico che è un fallimento.